Ecco le mascotte ufficiali dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Pyeongchang 2018 che si svolgeranno in Corea del Sud. Eccole in questo divertente video di lancio. C'è l'orso nero asiatico Bandabi e la tigre bianca Shorang. Shorang è una tigre bianca animale ben presente nella cultura e mitologia coreana, simbolo di fiducia, forza e protezione e sarà appunto la mascotte principale dei giochi. In coreano il suo nome è una contrazione delle parole protezione e tigre. Bandabi è un orso simbolo di forza e coraggio, accompagnerà gli atleti nei giochi paralimpici. Il suo nome deriva da banda che significa mezza luna. Bandabi è un orso simbolo di Dio. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.